La mediazione può rappresentare uno strumento ulteriore, come diceva prima il dottor Giordano, a disposizione del condominio per risolversi un problema. Anche di dove c'è una morosità magari anche lontana del tempo, in mediazione ci si può concordare, oltre che l'arrivo di soggetti che possono garantire il pagamento, anche evitare che poi si ripercuota questa situazione anche sul presente, cioè che magari il condomino dica, va bene, ma io posso pagare le rate pregresse, ma non riesco a pagare le rate attuali. Bene, basta mettere una rata che comprenda il pagamento in quota parte o una quota del vecchio, una quota parte alla quota corrente, cosicché il condomino non tornerà a essere morotto. Quindi sono strumenti che vanno chiaramente valutati, non è che la mediazione rappresenti la soluzione di ogni umano. Sono uno strumento che vale la pena utilizzare, esecutare e cercare di utilizzare al meglio per raggiungere un obiettivo, quello di rientrare nel processo del dovuto nel più breve tempo possibile. Grazie. Grazie.